l'abbiamo chiamata trascina questa è un'interazione complessa tra tutte le interazioni complesse possibili ho scelto questa perché vi consente di sviluppare decine di attività didattiche e poi entriamo anche nel merito di alcune caratteristiche del linguaggio di programmazione di pubcoder che ci permette di utilizzare degli elementi come per esempio il contatore tra non so se c'è qualcuno di voi che si intende di linguaggi di programmazione io li ho studiati e ho sviluppato anche delle applicazioni proprio poi negli ultimi anni non ho avuto tempo diciamo di seguire questa passione però dovete sapere che i linguaggi di programmazione hanno alcune caratteristiche comuni per esempio hanno la possibilità di utilizzare delle variabili le variabili sono dei contenitori che sono determinati da una sigla che può essere non sai x y per dire oppure anche bottiglia può essere un contenitore che si chiama così variabile nel quale vengono messi degli elementi che vengono conservati e poi ripescati durante la programmazione stessa ora questo è una tipologia poi ci sono le strutture di controllo come if then else quindi se succede questo allora fai quell'altro eccetera eccetera queste due strutture non esistono in pubcoder perché pubcoder non è un linguaggio di programmazione è un sistema per creare libri bucchi interattivi quindi noi non abbiamo la possibilità di inserire delle variabili e non abbiamo la possibilità di inserire delle strutture di controllo basate appunto su cicli di ripeto su if then else quindi su condizioni eccetera però possiamo fare lo stesso una serie di cose e con questa attività ve lo dimostro quindi qui è necessario seguire con grande attenzione però prima di tutto vediamo di che cosa si tratta cioè mettiamo alla prova questa pagina quindi anteprima che cosa abbiamo in questa anteprima dobbiamo trascinare gli elementi al loro posto quando li trasciniamo al loro posto spariscono se non individuiamo il posto corretto invece tornano indietro e quindi quando abbiamo terminato il gioco capita l'applauso ora avete già capito che questo tipo di struttura può essere applicata con infinite varianti didattiche disciplinari di contenuto pensate a tutte le possibili applicazioni quindi voi potreste anche costruire un intero libro semplicemente su questa azione perché varia la grafica la molecola dell'acqua napoleone le battaglie gli eventi la grammatica le traduzioni cioè tutto è possibile fare con questo sistema cambiando ovviamente il contenuto e la rappresentazione grafica notate che nell'anteprima abbiamo il pulsante si con il testo cioè sì con il testo tipo un esempio se io volessi sì lo puoi fare ti rispondo già perché abbiamo poco tempo perché tutti gli asset possono essere programmati in questo modo tutti i testi eccetera quindi quando dico che potete utilizzare questo questa struttura per un'infinità di casi di tutti i tipi è vero perché o usate immagini grafiche o usate testi potete fare quello che volete quando abbiamo finito adesso abbiamo finito no eh volevo ricordarvi che esiste il pulsante di ricarica perché siamo in un'anteprima quindi se volete rivedere come funziona lo dovete ricaricare vediamo da che cosa è composto è composto da un'immagine cioè come si chiama un audio una musica che parte non appena inizia il gioco poi abbiamo tre elementi disposti qui e tre elementi da quest'altra parte con un'immagine che divide che divide le due aree quindi nella sostanza cosa abbiamo abbiamo tre asset da trascinare e tre aree le aree sono queste una due e tre questa qua non è un'area è solo una zona di delimitazione che ci interessa stabilire le aree possono essere grandi quanto volete quindi ricarichiamo porto l'oggetto su un'area che non è quella corrispondente e torna indietro e qui invece sparisce questo è il sistema come sistema notiamo di che cosa abbiamo bisogno abbiamo bisogno di un file audio di un contatore e poi abbiamo bisogno di degli applausi il video degli applausi che compairà quindi abbiamo il file audio che sarebbe la colonna sonora li mettiamo qua e il contatore sono tutti elementi esterni alla pagina di programmazione di visualizzazione perché ci serve il contenitore questa volta vi spiego subito la teoria di funzionamento di questo oggetto poi lo ricostruiamo con i suoi script perché ci serve il contatore perché non abbiamo un sistema di variabili qui parlo per coloro magari che sono presenti e che conoscono i linguaggi di programmazione non abbiamo un sistema di variabili né di strutture di controllo if and else quindi ci dobbiamo arrangiare con l'elemento che è messo a disposizione da pubcoder negli oggetti questo elemento è un controller il controller è il contatore che cos'è un contatore? è qualche cosa che contiene in questo caso conterà dei numeri perché ho bisogno di un contatore? perché ho bisogno di sapere quante volte ho realizzato l'azione di far scomparire questi oggetti cioè quante volte questi oggetti il lettore ha portato questi oggetti nelle proprie aree perché? perché io non posso sapere guardate il lettore fa così mette questo oggetto qua e scompare questo oggetto lo mette qui e scompare questo oggetto lo mette qui e scompare siccome appunto non è un linguaggio di programmazione basato su queste strutture particolari di cui vi ho parlato prima io non posso sapere quando l'utente ha finito il gioco perché l'applicazione non lo registra non ha questa capacità di scendere a questo livello di programmazione però ne ha un'altra che è questa guardate io ho i tre oggetti qui e dispongo non proprio allineati sulle loro aree quindi ho questi tre oggetti nel momento in cui questi oggetti non ci sono più so che il gioco è finito quindi avrò un contatore che conterà fino a tre quando questo oggetto sparisce quando questo oggetto sparisce quando questo oggetto sparisce perché sono stati collocati nelle giuste aree io avrò il contatore che conterrà la cifra numero 3 e quando il contatore arriva a contenere la cifra 3 io so che il gioco è finito e faccio partire tutte le azioni che voglio un altro gioco gli applausi le canzoni un video di spiegazione dei testi quello che mi pare dunque il meccanismo è questo quando io l'utente prenderà questo oggetto e lo porta qui e l'oggetto torna indietro il contatore rimane a zero quando l'utente prende questo oggetto lo porta qui e l'oggetto sparisce il contatore va a uno poi l'utente porterà l'oggetto qui e tornerà indietro il contatore resta a uno poi il lettore porterà l'oggetto nel suo giusto area l'oggetto sparisce e il contatore va a due capite il meccanismo? poi prende il cappello lo porta qui e tornerà indietro il contatore resta a due poi prende il cappello lo porta qui torna indietro il contatore resta a due ma quando prenderà il cappello e lo porterà qui il contatore andrà a tre quando il contatore andrà a tre scatenerà una serie di azioni tutte quelle che vogliamo per il momento ci siamo limitate agli applausi ma voi potete far partire il cruciverba potete far partire un quiz potete andare a nuova pagina potete inserire quello che volete avete capito il meccanismo? sì no? giusto? è una domanda quindi l'oggetto deve per forza sparire dalla pagina perché il contatore va davanti sì questo è il meccanismo che vi insegno poi potrebbe fare altre azioni questa è la struttura che io vi insegno per fare questa cosa ok va bene potete anche accumularlo all'interno di un'area molto grande non è detto che sparisca lui riconosce che è nell'area giusta e non lo fate sparire va bene? questo volevo capire certo se tu vuoi accumulare che ne so una serie di elementi chimici all'interno di una serie di nomi sostantivi e certo lo puoi fare io lo faccio sparire perché è simpatico facciamo una cosa in più va bene? ok allora pronti organizziamo questa struttura quindi la organizziamo così poi la costruiamo direttamente duplica pagina duplica pagina tolgo tutto no vabbè gli applausi lasciamo il contatore lo tolgo tolgo questo 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 lo facciamo con lo facciamo così creiamo due aree una è questa quindi lo cambiamo un po' una è questa un altro prendo un altro asset poniamo questo due asset così e li metto qui queste sono le aree di destinazione lo semplifichiamo un po' ma alla fine è lo stesso poi prendiamo non lo so cosa abbiamo preso qua era questo degli uccelli anche perché no dai gli uccellini diciamo che l'uccellino sarà destinato a quest'area qua e invece ragazzi qua c'è venuto un freddo anche da voi freddo inizia a raffreddare noi giù in Sicilia abbiamo freddo anche noi in Sardegna per noi freddo è qui è freddo stamattina ho dovuto tirare fuori il piumino per andare a scuola perché a scuola ovviamente il riscaldamento non c'è più infatti sono spenti e quindi ero un gelo certo sono spenti anche in casa sono spenti allora diciamo che il cappello va qua per semplificare e questo oggetto va lì va bene le mettiamo ancora un altro va un altro oggetto che può essere questo lo chiudiamo un po' e questo invece lo mettiamo qua nel disegno anche questo va qua quindi due oggetti vanno qui e questo invece andrà là sopra perfetto allora guardate come operiamo qui abbiamo gli applausi qui abbiamo la colonna sonora che cosa ci manca il contatore quindi prendiamo un contatore e lo appicchiamo qua abbiamo i due file audio i tre oggetti che devono essere sistemati e le due aree l'area sottostante non conta non ci interessa niente partiamo scegliamo il primo oggetto che è il piccolo principe che vola con gli aquiloni delle sue proprietà non ce ne può fregare di meno passiamo direttamente alle interazioni l'interazione non è più un tap perché questa volta io devo prendere se ho il computer prendo il mouse e trascino e se sono su un tablet prenderò e userò il dito il dito per trascinarlo quindi devo cercare un'azione un evento che ha a che fare con il trascinamento quindi vediamo drag drag l'azione di riferimento è drag no scusate l'evento di riferimento è il drag l'utente farà un drag qui sopra adesso ci siamo perché se non mi seguite non vado avanti ok drag l'oggetto deve essere trascinato drag perfetto poi controlliamo che tutti gli oggetti siano al primo livello quindi disponi disponi primo piano poi perché se no spariscono sotto il coso quindi disponi primo piano disponi primo piano abbiamo messo tutti e tre potremmo anche farlo in un colpo solo non importa in modo tale che l'area ovviamente deve essere sottostante il livello se no trascino qui e non lo vedo più perché passa sotto dunque siamo col piccolo principe non siamo al tap ma siamo al abbiamo detto drag quindi selezioniamo drag adesso aggiungiamo l'azione cioè cosa succede quando draggo cioè quando trascino nuova azione nuova azione è trascina oggetto c'è solo questa perfetto trascina c'è solo questa ma la brutta notizia è che qui è complicato e bisogna prestare attenzione allora prima di tutto vediamo l'oggetto target me stesso giusto non è un altro io trascino proprio quello non è che trascino questo e si muove il cappello anche se potrei farlo quindi immaginate che interazioni bellissime che i giochi potete creare quando si trascina un oggetto ma in realtà se ne è sposto un altro comunque il target è me stesso adesso devo vedere qual è questo lasciamo perdere forza trascina forza l'oggetto e ci guardiamo la zona di rilascio cioè dove lo devo rilasciare l'oggetto l'oggetto va rilasciato nella zona di rilascio che dobbiamo aggiungere quindi aggiungo questa è la sezione zona di rilascio aggiungo la zona di rilascio qual è la zona di rilascio allora la zona di rilascio è un nuovo oggetto target ovviamente qual è selezioniamola allora qui c'è tutto quello che abbiamo inserito su questa pagina allora la zona di rilascio sarà abbiamo detto che il piccolo principe vola sarà l'immagine dove il piccolo principe vola questa quindi ripeto l'oggetto stiamo lavorando su questo oggetto che deve essere trascinato qua chiede l'oggetto target qual è questo deve essere trascinato qual è l'oggetto della zona di rilascio cioè in quale zona deve essere rilasciato l'oggetto target della zona di rilascio è questa immagine infatti vediamo è questa immagine benissimo poi passiamo un altro no continuiamo con questo oggetto andiamo sotto guardate che c'è scritto saltiamo tutto c'è scritto cioè abbiamo una nuova sezione rilascio fuori dalla zona quindi abbiamo due opportunità se l'oggetto viene rilasciato nella zona succederà qualche cosa ovviamente ma se viene rilasciato fuori dalla zona succederà qualcosa d'altro allora vediamo che cosa succede quando è rilasciato fuori dalla zona abbiamo delle azioni cioè dobbiamo stabilire che un'azione deve intervenire quindi modifica azioni qui in basso si apre una scheda aggiungi una nuova azione benissimo gli dirò che deve tornare al punto di partenza quindi sceglierò sposta oggetto sposta oggetto sposta oggetto sposta oggetto guardiamo qui sotto me stesso modalità eccolo qua posizione iniziale quindi trascino l'oggetto ma fuori dalla zona di rilascio quindi in un altro posto cosa succede che l'oggetto verrà spostato dove qui sotto nelle modalità la modalità sarà no in una posizione fissa no incrementale no nella posizione precedente perché io potrei toccare più volte questo oggetto e quindi lui tornerebbe in una posizione intermedia no gli devo dire che deve tornare alla posizione iniziale bene se questo è chiaro torniamo indietro con questo pulsantino qui torniamo indietro siamo in drag trascino oggetto e dobbiamo stabilire che cosa succede se non cioè se l'oggetto è trascinato nel posto giusto quindi trascino oggetto vediamo l'oggetto target è me stesso azioni abbiamo detto che l'oggetto la zona di rilascio è questa il principino benissimo l'azione che cosa succede quando l'oggetto è portato sull'azione beh facciamo così se vogliamo possiamo dire nascondi oggetto facciamo nascondi oggetto ok nasconde se stesso aggiungiamo anche una nuova azione per esempio riproduci audio riproduci audio gli applausi va bene quindi nasconde oggetto riproduci audio poi la collega non piaceva nascondere l'oggetto la prossima volta lo lasciamo visibile facciamo una prova e vediamo se funziona poi ripetiamo questa operazione per gli altri due oggetti e quindi così la impariamo anteprima quindi trascinali al loro posto lo metto qua e torno indietro lo metto qua e torno indietro lo porto qui lo porto qui sparisce perfetto e sparisce e partono di applausi dovremmo aggiungere qui in mezzo un'azione che interrompe la colonna sonora quindi se partono di applausi dovremmo dire poi che la colonna sonora si interrompe oppure non diamo nessuna colonna sonora però questo meccanismo funziona l'avete seguito adesso procediamo con gli altri oggetti nello stesso identico modo quindi ripetiamo queste operazioni ci siamo dimmi perdonami bisogna anche dare incrementa contatore decrementa contatore sì certo giusto lo facciamo dopo alla fine facciamo tutti gli oggetti poi ci occupiamo il contatore ok allora prendiamo il cappello perfetto cappello drag abbiamo detto drag 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 aggiungi azione solo una se ne può aggiungere trascino oggetto perfetto andiamo qui sotto il target è me stesso poi zona di rilascio qual è la zona di rilascio lo devo aggiungere aggiungi zona di rilascio quindi mi chiede qual è l'oggetto target selezioniamolo quindi è è quell'altra immagine qual è è ma dove c'è scritto ebook ah ebook questo non si vede sì non si vede è questa eh non è anime scusa ebook credo sia lo sfondo non è quello sai credo che sia anime 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 sei tp anime sei e infatti allora è anime infatti va bene allora oggetto target e anime e anime non si vede non so perché non si vede forse non è un'immagine tp anime subito dopo me stesso sì perfetto quindi questo è l'oggetto target io lo devo trascinare lì poi fuori dalla zona di rilascio andiamo a cercare eccolo qua rilasciato fuori dalla zona cosa succede devo aggiungere un'azione gli dirò che l'azione è da aggiungere cambiamola la zona è da aggiungere no questa non la cambiamo perché è fuori dalla zona di rilascio quindi deve tornare al suo posto non c'è dubbio su questo quindi aggiungiamo azione abbiamo detto sposto oggetto dove era? sposto oggetto sposto oggetto vi ricordate modalità no incrementale ma posizione iniziale poi qui potete decidere la giura la durata se farlo ritornare di botto un sacco di cose chiaramente vi divertite allora se lo trasciniamo qui è a posto se invece lo trasciniamo in un posto sbagliato torna indietro vediamo senza nasconderlo vediamo cosa succede così possiamo stabilire un accumulo di oggetti allora lo portiamo qui e torna indietro lo portiamo qui e torna indietro perché torna indietro? perché? prova sull'altra figurina allora vediamo come si chiama questo oggetto intanto si chiama 10 semplicemente 10 allora cambiamogli il nome come vi ho insegnato a fare che è la cosa migliore allora rilascio 2 lo chiamiamo rilascio 2 va bene e questo lo chiamiamo rilascio 1 perché è così che bisogna fare poi specialmente quando avete un sacco di oggetti non ci capite più niente quindi la prima cosa a fare è la nomenclatura degli oggetti allora rifacciamo prendiamo il cappello trascina oggetto fuori dalla zona di rilascio no zona dobbiamo dire qual è la zona di rilascio la zona di rilascio è non PP6 ma rilascio 2 eccolo qua rilascio 2 perfetto adesso dovrebbe funzionare vediamo anteprima qua torno indietro e qua ci rimane vedete qua ci rimane perfetto ottimo allora togliamo la colonna sonora colonna sonora è attiva però dove è che l'ho messa la colonna sonora togliamo la fastidio era qua la togliamo e basta anteprima ecco perfetto e prendiamo adesso la terza il terzo asset il metodo è sempre quello quindi cerchiamo drag trascina poi aggiungi l'interazione l'unica che c'è trascina oggetto qui sotto vediamo come è sistemato il target è me stesso chiaramente poi la zona di rilascio 1 dobbiamo stabilirla aggiungi zona di rilascio 1 dunque zona di rilascio 1 è questa volta sempre il questa cioè la seconda giusto rilascio 2 vedete che si illumina cioè il bordo diventa blu quindi giusto perfetto poi vediamo che cosa succede quando è rilasciato fuori dalla zona quindi aggiungi azione aggiungi azione e cosa facciamo facciamo niente lo lasciamo così perché lo faccia scomparire come prima va bene è lo stesso possiamo fare tutto quello che vogliamo un sacco di roba però per il momento diciamo nascondi oggetto lo nascondiamo allora vediamo se funziona e poi parliamo del contatore quindi prendiamo questo qui torna indietro poi questo qui torna indietro e questo qui torna indietro ah no perché era al posto giusto no non era al posto giusto abbiamo sbagliato questo va qua e ci rimane poi questo va qua e scompare ok gli applausi funzionano perché perché lui ha duplicato la pagina quindi vabbè si ricorda determinate caratteristiche allora cosa abbiamo sbagliato che il cappello va qua no e non qua quindi vediamo drag trascino oggetto zona di rilascio oggetto target rilascio 2 e no abbiamo sbagliato dobbiamo cercare rilascio 1 eccolo qua rilascio questo è adesso funziona il cappello deve andare qua torna indietro no non succede niente già non succede niente perché non gli abbiamo detto non abbiamo detto al cappello che quando è fuori dalla zona di rilascio come azione eccolo qua deve tornare indietro quindi sposta oggetto vede che è complesso cioè dobbiamo stare dietro un po' a queste di solito quando sono un po' più complesse le cose ci si prendono due appunti si scrivono non incrementale ma posizione iniziale ma anche qui possiamo fare la copia delle azioni c'è una volta che abbiamo fatto su un oggetto lo vogliamo riprodurre su tutti facciamo comprezzione e beh certo questo è il trucco chiaramente certo anzi voi duplicate la scheda e poi cambiate le grafiche chiamate gli oggetti li chiamate oggetto 1 oggetto 2 oggetto 3 sapete quali sono le zone di rilascio sono zona 1 2 3 4 5 6 quello che volete va bene quindi certo vediamo se funziona adesso quindi prendo il cappello qui dovrebbe tornare indietro vediamo ma lo mollo e non torna indietro torna indietro qua vabbè abbiamo fatto il contrario qui è il suo posto giusto e qua no scompare abbiamo fatto un casino allora dobbiamo rifare vedete come è semplice è sbagliare allora questo è giusto vediamo se funziona questo lo portiamo qui e sparì portiamolo prima qua e sparisce poi lo portiamo qui poi vediamo quali sono gli errori il cappello abbiamo detto che dovrebbe essere la zona di rilascio di questi due è la seconda quindi se lo porto sulla prima dovrebbe tornare indietro e questo lo porto sulla prima e sparisce quindi abbiamo sbagliato nessun problema anzi bene aver sbagliato e così rifacciamo quindi prendiamo il cappello drag trascino oggetto benissimo la zona di rilascio sua non è la 1 ma la 2 abbiamo detto quindi cerchiamo zona di rilascio è la 2 questa benissimo poi quando è fuori dalla quando è nella zona di rilascio che cosa farà come azione niente ci rimane va bene e quando sbagliamo zona di rilascio cioè fuori dalla zona di rilascio sposta l'oggetto self vediamo dove alla posizione iniziale quindi questo dovrebbe funzionare passiamo all'altro oggetto quindi drag trascino oggetto la zona di rilascio è la 2 quindi giusto poi quando è fuori dalla zona di rilascio che cosa fa modificazioni nasconde l'oggetto perfetto e quando è nella zona ah no quando è fuori dalla zona di rilascio non devo nasconderlo ecco l'errore quando è fuori dalla zona di rilascio non devo nasconderlo eccolo qua devo aggiungere un'azione che è sposta oggetto eh perché se non colpisce la zona di rilascio deve tornare indietro quindi sposta oggetto non incrementale ma posizione iniziale perfetto e quindi se arriva nella zona di rilascio che cosa farà niente lo lasciamo lì direi a sto punto quindi vediamo se funziona allora questo funziona abbiamo già visto è inutile vediamo questo dovrebbe tornare indietro mollo e torno indietro questo dovrebbe tornare indietro mollo e torno indietro questo dovrebbe rimanere credo e anche questo dovrebbe rimanere mentre questo invece sparisce perfetto adesso ok qui valore target ragione action qui abbiamo fatto e a posto va bene adesso dobbiamo stabilire il contatore le caratteristiche del contatore ok allora togliamo gli applausi e li mettiamo dopo abbiamo inserito il contatore qua di fianco selezioniamo il contatore e guardiamo che cosa succede nel contatore abbiamo una serie di eventi però quello che ci interessa è questo è il valore target raggiunto quindi quando viene raggiunto il valore target noi dobbiamo far partire poi qualche effetto però come lo stabiliamo il valore target cioè qual è il valore che deve avere il contatore il valore del contatore è una proprietà non è un'azione non è un evento quindi lo cerchiamo nelle proprietà del contatore stesso e gli diciamo che il valore target è 3 perché è 3? perché gli oggetti sono 3 le zone sono 2 ma gli oggetti che noi manovriamo sono 3 quindi sono 3 poi gli diciamo che il valore iniziale è 0 perché potremmo fare delle operazioni molto complesse avere un concatenamento di contatori per cui raggiunto una cosa ne succede un'altra e così via in questo caso non usiamo uno solo quindi il valore posso mettere quindi più contatori nella stessa parte? puoi fare tutto quello che vuoi però noi non ce ne occupiamo oggi chiaramente perché lo scopo lo scopo di questo corso è darvi delle indicazioni generali per fare dei buoni prodotti ma non possiamo approfondire più di tanto chiaramente specialmente questa applicazione chiaramente che offre delle possibilità straordinarie pensate che fa anche la lettura vocale veramente sono tantissime però ci vorrebbe un corso un po' consistente specifico che tra l'altro con Scuola Futura non possiamo fare perché non possiamo indicare il nome dell'applicazione che usiamo e quindi va a finire che si iscriverebbero un sacco di persone che pensano di utilizzare altri strumenti e quindi verrebbe fuori un po' di confusione però adesso dobbiamo chiudere veramente quindi contatore target 3 valore iniziale 0 perfetto e che cosa però devo fare? devo dire che ogni volta che l'oggetto raggiunge la sua area di destinazione qui il valore del contatore aumenta quindi riprendiamo gli oggetti ogni oggetto e le sue interazioni quindi questo oggetto drag trascina oggetto dove andrò? andrò nella zona di rilascio dell'oggetto target cioè quella corretta quindi aggiungiamo un'azione azione quando arriva nella zona di rilascio va bene nascondi oggetto riproduci audio no lasciamo stare l'audio non riproduci l'audio ma facciamo così aggiungi una nuova azione quale? cerchiamo il contatore quindi contatore eccolo qua contatore decrementa? no imposta valore contatore? no incrementa il contatore dobbiamo dirgli di aggiungere uno quindi incrementa incrementa di quanto? quantità uno e notate che sulla quantità voi potete stabilire dei giochi che hanno un peso diverso se io posso dire che di questo oggetto due zone di rilascio buone ma una vale di più l'altra vale di meno pensate a quante combinazioni potete creare con i contenuti e quindi per esempio se io lo trascino qui il valore sarà due se lo trascino qui sarà uno ma entrambe le zone sono buone basta aggiungerle basta aggiungere tutte le zone di rilascio che volete immaginate l'acqua la particella d'acqua va in un fiume va in un lago va nel mare va nella bottiglia di acqua minerale magari state stabilendo che scientificamente hanno dei valori diversi è tutto giusto però quello che conta qual è in questo caso è la scelta del valore che lo studente attribuisce o che l'utente il lettore attribuisce tornando a noi incremento il contatore di uno perfetto e qua invece col cappello uguale drag trascino oggetto arrivo nella zona giusta quindi modifico azioni e qui non avevo nessuna perché stava in bella vista ma devo aggiungere almeno quella del contatore ah dove è contatore contatore incremento contatore incremento di quanto di uno fantastico e poi questo ha anche drag trascino oggetto trascino oggetto nella zona giusta zona di rilascio azione eccola qua modificazione non ne ho nessuna l'aggiungo contatore dove è il contatore qua incrementa contatore uno fantastico e adesso devo far succedere qualcosa al contatore cioè quando il contatore arriva a tre che cosa succede? vediamo selezioniamo contatore valore target raggiunto allora quando raggiunto il valore che gli facciamo fare? gli applausi allora facciamo così audio dove è? audio quindi riproduce audio riproduce audio cosa c'è? niente e infatti l'audio l'abbiamo tolto quindi dobbiamo riportarlo qua nei nostri asset asset vediamo audio applausi dove era? applausi eccolo qua quindi riprendiamo il contatore valore target raggiunto perfetto riproduci audio ok lui mi dice nessuno e no bello adesso ce l'hai si chiama applausi eccolo qua tac quindi quando hai finito hai gli applausi e possiamo anche fare un'altra cosa possiamo dire potete vedere cambia testo cioè fai tutto quello che vuoi ripeti azioni audio eccetera eccetera posso anche dire di nel menu navigazione vai a pagina successiva o precedente in questo modo posso creare anche una specie di struttura per livelli adesso non mi interessa voglio farvi vedere anche perché diciamo nell'anteprima il passaggio di una pagina all'altra non funziona devi fare la pagina per pagina però guardate che potete cambiare il sistema di navigazione cioè se tu hai risolto un livello puoi passare a quello successivo quindi diventa un libro game a tutti gli effetti ottimo un escape room anche con codici si puoi anche creare un escape room certamente anteprima vai allora risolviamolo subito perché tanto abbiamo visto che funziona tac tac perfetto ha funzionato perché il contatore è arrivato a contare tre ok tutto chiaro allora con questa struttura con questa semplice struttura voi potete creare un'infinità di situazioni e combinare tutte le azioni possibili immaginabili guardate qua quante ne avete a parte javascript che non funziona perché bisogna avere potete far partire anche un delle domande quello che volete basta solo organizzarsi attenzione perché questo sistema è pericoloso siccome è molto interessante mettere le mani su queste cose perdete i pomeriggi come niente fosse quindi va usato con cattica utela ok però questo è uno questo non è un giochetto di quelle di quelle cretinate che trovate su internet che vi consigliano usa questa app fai questo fai quell'altro cioè questo è uno standard cioè vuol dire che voi create un libro interattivo fondato su principi di gamification su principi visuali e grafici che funziona con tutti i dispositivi ed è uno standard internazionale che rimarrà per sempre quindi uno di quegli accrocchi che ci sono pull e che tutti consigliano ah usa questo usa quella fai questa cosa fai quell'altra detesto questo modo di approcciarsi ai contenuti e alla loro creazione e pubblicazione ok scusami una cosa ma tu prima avevi questa cosa funziona avevi l'audio che partiva appena si si apriva la pagina e rimaneva di sottofondo sì perché gli avevo detto che ma gli avevo detto che era la colonna sonora qua ah ok perché ho parlato con load e non funzionava io pensavo load scarichi la pagina e parte l'audio vedi attiva la colonna sonora ah ok grazie poi scegli il file audio qual è sì ma bisogna andare allora li ho usati per farvi vedere che esiste una multimedialità però in realtà con tutti questi effetti bisogna andarci molto cauti cauti perché perdete il lettore il segreto dell'inter l'interfaccia ha delle regole la costruzione di un'interfaccia delle regole regole molto complicate che sono nate pensate negli anni 80 quando ancora i sistemi operativi non erano grafici cominciavano a esserlo il primo era era l'Apple poi a seguire c'è stato Windows Linux eccetera eccetera e queste linee dell'interfaccia sono state studiate dalla Xerox pensate un po' la Xerox era una multinazionale che aveva avviato un centro di ricerca spaventoso nel quale lavoravano psicologi cognitivisti grafici illustratori informatici eccetera e la Xerox ha stabilito quali dovessero essere le regole dell'interfaccia con mouse senza mouse eccetera eccetera poi sono nati i tablet e quindi sono nate altre gesture le gesture sono i comportamenti dell'azione con l'oggetto quindi lo scuoti fai altre cose ma la sostanza delle linee guida dell'interfaccia non sono cambiate uno dei più grandi psicologi che ha studiato e ha lavorato con la Xerox e poi con Apple anzi è stato il capo è stato il capo il responsabile della divisione informatica di Apple che è stata diciamo l'azienda che ha fondato tutta la sua linea sulla sull'interazione uomo-utente e su questo ha creato le sue applicazioni e tutto il resto si chiamava Norman Norman era uno psicologo cognitivista Norman ha scritto un libro estremamente interessante un vecchio libro però se lo trovate in commercio è divertentissimo ma soprattutto è estremamente attuale perché tutto ciò che facciamo con i dispositivi deriva da quelle considerazioni il libro si intitola La caffettiera del masochista La caffettiera del masochista è proprio una guida per questo come si chiama il sistema di interfaccia che guida l'utente e quindi che i programmatori devono applicare si chiama GUI GUI Guideline User Interface Guideline User Interface le GUI ora GUI non è un manuale se voi cercate su internet GUI non è che vi informa un libro su questo sono delle regole a volte implicite a volte esplicite che tutti i programmatori seri che qualsiasi cosa debbano produrre seguono in modo molto fedele e quindi ci sono delle regole le Guideline User Interface le GUI definite appunto negli anni già negli anni 70 poi negli anni 80 in particolare stabiliscono per esempio una serie di cose che una delle quali riguarda la ridondanza degli effetti che si creano sulla base delle interazioni dell'utente e questi effetti non devono essere tali da impedire all'utente di svolgere le sue attività cioè non dovete sottolineare con un applauso qualsiasi cosa faccia o con un o con per esempio il volta carta di un memory sì se memory ha 6 carte va bene se era 30 lasciate perdere perché la quantità diventa qualità poi disturba sottolineare un un evento e l'evento viene sempre dall'utente tutte le volte che un evento viene compiuto diventa ridondante e alla fine prendete l'utente per idiota perché è come guidare guidarlo passo a passo no quindi vabbè questo è un discorso che insomma però sappiate che esiste ecco sappiate che esiste prestate qualche attenzione in questo campo guideline user interface sono i motivi per cui per esempio l'informatica ha preso strade differenti per cui Apple si è dedicata alla grafica si è dedicata a questo altri sono dedicati ad altro per esempio il responsabile micro dello sviluppo dello sviluppo informatico di Microsoft era un informatico il responsabile dello sviluppo informatico di Apple era uno psicologo cioè già lì capite tutta una serie di di direzioni di ramazioni eccetera eccetera che hanno condotto poi i vari produttori su strade differenti ecco perché devono esistere degli standard perché siccome le strade adottate sono diverse allora noi stabiliamo che l'ipub deve funzionare in questo modo l'ipub 3 può fare queste cose e così via seguire però le guideline user interface da una parte e gli standard dall'altro implica maggior lavoro dispendio di energie soldi in progettazione eccetera eccetera per cui ecco perché vi trovate in un mondo estremamente variegato dove potete trovare una serie di applicazioni giochini giochetti che non seguono questi principi perché chiaramente specialmente se sono gratuiti eccetera quindi hanno un libro in formato ipub invece resta nel corso degli anni chiaramente perché essendo uno standard non avrete sorprese bene facciamo l'ultima parte l'ultima cosetta cominciamo ad accennarla e poi la completeremo una volta al prossimo incontro il prossimo incontro sarà dedicato alla pubblicazione distribuzione vendita e tutto il resto per il prossimo incontro se riuscite a fare qualcosa di interessante lo inserite in un vostro drive prendete il link e lo condividete attraverso quella scheda di moduli che vi ho messo a disposizione dunque dov'è che scusa Alberto hai detto lo starichiamo come come avete fatto con l'altro lo collocate da qualche parte in un vostro drive e poi condividete il link lo stesso identico modulo così abbiamo tutto lì ok predisponi tu la griglia no è già fatta quella lì proprio sempre quella sempre quella la rifate inserite un nuovo un nuovo cosa nelle note scrivete scrivete pub coder i pub 3 non so io priorità visiva quello che è per distinguere dall'altro oppure anche niente tanto poi li scarichiamo tutti e li vediamo ok ok sì sì allora andiamo alla pagina pagina abbiamo inserito la copertina vi ho detto le dimensioni scusi sì posso chiederle solo una cosa io sto partecipando allora io non posso partecipare non ho la classroom allora io ho scaricato come non è la classroom scusa no perché sono sono esterna sì si è scritta dopo e vabbè ma si è scritta dopo sì è la mia collega quella ho capito ma la sì ma la classroom non è mica privata cioè il link della class tu puoi entrare in class ma io te l'ho anche mandato il link Elena non l'hai visto no non mi è arrivato entra entra in class comunque aspetti io ho scaricato il programma pubcoder sì sono riuscita a farlo per conto mio lo stesso tutto il lavoro dopo due giorni brava mi è venuto fuori scritto che io non ho la licenza e mi ha chiuso tutto e ho perso tutto oh avevo fatto per 30 giorni gratuito invece dopo due giorni di lavoro mi ha chiuso tutto allora scrivi niente scrivi a Paolo glielo spieghi magari lui è in grado di recuperarti il lavoro sì lui mi dice non hai la licenza quindi non puoi ho fatto a scrivere dicendo il discorso dei 30 giorni dove mi era venuto scrivi a Paolo Albert ok scrivi a lui lui ti risolve il problema e ti allunga la licenza perché io posso anche scrivermi con un altro indirizzo email ma al lavoro mi tocca rifarlo esatto no no ma scrivi a Paolo scrivi a Paolo perfetto grazie mille mi scusi sicurati no intanto ci diamo del tu che mi scusi e poi non ti scuso per principio io non scuso nessuno anzi io cazio cazio nell'ordine cazio punisco metto in galera e porto davanti al plotone di esecuzione questi sono i quattro livelli di valutazione che è la mia rubrica valutativa sì quindi tu sei volevo dire Elena che ci sarà anche un altro corso negli ebook quindi ah viene replicato questo corso da te sì super prof siamo in troppi sold out allora dai che lo allunghiamo di dieci minuti ci state non di più meno 20 19 40 chiudiamo vai vai ci tengo a farvi vedere ci siamo ci siamo vi do queste indicazioni così le potete applicare durante la settimana molto semplice abbiamo creato il nostro libro è tutto a posto la copertina deve essere sotto i 4 mega quindi va bene vedete il calcolo è qua la trascinate qui qui abbiamo il titolo autore editore cambiate quello che volete potete stabilire i font in modo che quando scrivete lui segue queste impostazioni generali tutte le specifiche all'interno del progetto della scheda progetto vengono mantenute per tutto il libro quindi vi potete sbizzarrire quindi fatto questo tutto a posto ecco le operazioni che facciamo per pubblicare non per pubblicarlo diciamo negli store ma per pubblicarlo nel nostro computer quindi per averlo per avere il libro ecco che cosa facciamo abbiamo fatto le anteprime funziona tutto perfetto allora uno progetto progetto analizza progetto vediamo analizza progetto dice che il progetto è a posto guarda cosa dice dice che abbiamo 6 mega di video audio abbiamo tutto quanto e poi parca miseria qua questo gelo alla faccia della primavera dunque cosa dice qua dice elimina due asset inutilizzati sì sempre sì questo perché è inutile avere immagini che pesano possono creare confusione quindi tutto quello che vi dice di cancellare eliminare qui sì subito la risposta è consolida accidenti porca miseria ragazzi mi sa che dobbiamo chiudere al più presto la lezione devo andare a prendere qualcosa allora elimina due asset consolida benissimo consolida dovete salvare copie di backup va bene ok consolida chiudi perfetto adesso il nostro progetto è stato analizzato ed è a posto e dobbiamo creare il libro come facciamo qui in alto a destra facciamo clic sul prima sezione vedete ci sono tre sezioni sulla prima la prima è xpub xpub non ci interessa un formato ve ne parlerò poi la prossima volta va bene quello che ci interessa è l'ipub3 ipub3 benissimo dove lo piazziamo l'ipub3 lo vogliamo aprire in digital edition in ebooks c'è calibri quello che vogliamo no vogliamo creare un file quindi questa è la successione ipub tutte le pagine chiaramente e file e poi partiamo con il play diamo avvio alla procedura di creazione dell'ebook lo impacchetta adesso fa la validazione cioè che cosa sta facendo si sta collegando con il consorzio internazionale per per dirgli se l'ipub è a posto vedete che qui la pagina youtube non va come vi avevo detto vabbè non importa dovremmo toglierle oppure le lasciamo così non ce ne frega niente continua comunque continua comunque dove lo metto ma lo metto sulla scrivania sorgente pubcoder piccolo principe va bene ok salva fatto e vediamo scusate posso chiederti una cosa sì prima però fammi finire qua sorgente pubcoder eccolo qua vedete ha formato ipub doppio clic che si apre in questo caso in libri ed ecco il nostro libro vuoi abilitare i contenuti online perché abbiamo inserito dei video da youtube ricordate il link quindi lui è compatibile libri è compatibile con questo link gli dirò consenti ed eccolo qua questo è il nostro piccolo principe che si scorre così abbiamo la dedica il capitolo 1 i giochi abbiamo tutto poi abbiamo l'indice anche se vogliamo quindi così possiamo vedere anche le pagine qua sotto e navigarle anche in questo modo andiamo subito ai giochi vediamo qui funziona io abbassare un po' il volume poi qui vediamo se funziona si 15 secondi 35 secondi occhio alle orecchie 15 25 quindi funziona tutto vediamo anche il cruciveno questo cos'è il memory via dal memory poi vediamo questo funziona ok vediamo il nostro giochettino benissimo funziona tutto il pulsantino funziona anche il pulsantino perfetto è a posto abbiamo creato il nostro libro però facciamo ancora una cosa l'ultima che è questa abbiamo visto che ci sono diversi formati c'è anche la KF8 di Amazon poi lo vedremo ma l'HTML5 questo è parecchio interessante guardate HTML5 cioè io creo una web app questo libro diventa immediatamente una web app come allora HTML5 tutte le pagine no wifi ma lo apriamo in un browser io a me piace Safari uso Safari quindi adesso lui creerà la web app e la aprirà in Safari vediamo fa il solito rendering bla 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 non deve fare la validazione presso il consorzio mi dice che il mask ed image vabbè manca un'immagine se vedete che l'abbiamo cancellata non importa continua comunque genera l'app apre Safari eccolo qua e abbiamo il piccolo principe in Safari pazzesco abbiamo un libro una web app facciamo click lui si sta caricando ha caricato poi qui abbiamo i pulsantini facciamo un tap compare l'indice qua sotto possiamo navigare come ci pare vediamo i pulsantini funziona tutto siamo sul web qua guardate che impresa miracolosa ci sono i filmati funziona anche i pulsanti del filmato che passa da un tempo all'altro qui torna all'inizio fantastico abbiamo cosa abbiamo il memory via dal memory qui qui esploriamo le nostre immagini e qua il giochettino va bene dovremmo regolare un po' il volume di questi oggetti che abbiamo inserito questa è una web app cioè un oggetto che voi inserite in in uno spazio FTP cioè come dovete fare adesso non ve lo posso spiegare però noi qui abbiamo creato un'anteprima dell'applicazione che è visibile attraverso un browser altrimenti selezionate sempre HTML5 anziché Safari scegliete cartella cartella quindi lui prende questo oggetto lo trasforma in una serie di documenti e file all'interno di una cartella che basta poi collocare tramite FTP in un hosting in uno spazio web e ricavare l'indirizzo che è una url e con quell'indirizzo lì voi andate continua comunque sì perché c'è un'immagine in più da qualche parte che non è collegata web app la lasciamo sempre qui così così vediamo com'è fatta mostra sulla scrivania ottimo questa è la web app la web app che ha i file css le immagini l'index l'index HTML quindi noi mettiamo qui non dovete metterlo in drive perché non funziona non dovete metterlo in dropbox perché non funziona non sono degli degli spazi web adatti a inserire degli elementi non sono degli FTP in sostanza quindi bisogna bisogna inserirlo in uno spazio che funga da hosting però voi prendete questa cartella andate da uno che sa fare queste cose nella vostra scuola l'animatore digitale l'informatico che si occupa di queste cose deve sapere lo fare per forza e quindi collocate all'interno della scuola vi fate dare l'indirizzo che sarà non lo so www.albertopian slash gioca con me slash index html e basta e voi avrete questo libro che è visibile a chiunque abbia questo link è una web app e a chiunque o a chiunque a chiunque a chiunque o Grazie a tutti.